Presidente, sviluppo Basilicata, ordine dei commercialisti di Potenza e Banca Popolare di Bari, di nuovo insieme per questa ventisesima edizione di Telefisco? Sì, insieme tre partner importanti a beneficio del sistema produttivo locale. I dottori commercialisti di Potenza sono, attraverso l'ordine, l'unico ente pubblico rappresentativo dell'intera categoria professionale. È una categoria professionale che intende garantire i più elevati standard qualitativi e lo fa attraverso un'importante azione di aggiornamento e formazione. I dottori commercialisti devono conseguire dei crediti formativi ogni anno, pena la cancellazione dall'albo. Questa iniziativa odierna segue alle altre che ci sono state negli anni precedenti. È di primaria importanza perché attraverso questo momento di approfondimento con i vertici dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dello Sviluppo Economico e gli stessi giornalisti del Sole 24 Ore, si delineano gli indirizzi in materia di applicazione alla normativa fiscale che ovviamente saranno seguiti durante tutto l'anno dell'attività ordinaria dei dottori commercialisti. Un'attività di formazione, vista anche questa partnership con Sviluppo Basilicata e la Banca, ha supporto anche del mondo imprenditoriale lucano? Assolutamente sì. I dottori commercialisti sono consulenti del mondo produttivo imprenditoriale lucano ma sono consulenti spesso nei diversi ruoli anche degli enti pubblici. Penso ad esempio al ruolo dei dottori commercialisti come revisori degli enti locali e tutto questo lo fanno sempre seguendo il principio della fede pubblica al quale si devono ottenere. E quindi ribadisco assolutamente importante per i dottori commercialisti formarsi, aggiornarsi per garantire ai propri clienti i più elevati standard qualitativi professionali.